Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo, sino a venerdì 21 dicembre, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite Contursi e Sicignano degli Alburni in direzione Reggio Calabria. Sul accordo autostradale di Benevento, sino a martedì 4 dicembre, per lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto Mele, è attivo il restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite San Giorgio del Sagno e Castello del Lago in direzione della 16 Napoli Canosa. Sulla strada statale 7 Appia, sino a giovedì 6 dicembre, per un intervento di manutenzione attivo il senzionico alternato nel tratto compreso tra le località Monte Sarchio e Tufara in provincia di Benevento. Stoppa la circolazione domani ad Avellino e Benevento in occasione della Domenica Ecologica. Tutti i dettagli al nostro sito all'indirizzo www.muoversi.regione.campania.it Dalla redazione Muoversi in Campania, Nunzia Acanfora. Grazie a tutti.